Basta, basta con la tendenza a nascondere incertezze e mancate azioni. È nelle tue idee che devi credere. Lo sai, questo mondo spinge in tutt'altra direzione. L'impegno, la carcerazione dei dubbi necessari sono. Vivere così ci renderebbe testimoni essenziali di fronte al giudizio chiaro e severo della verità. Nessuna trappola a decretare il nostro fallimento scatterebbe attorno all'esperienza di decisi passi. La confusione tra arte, letteratura ed esistenza potrà essere dimostrata ed eliminata senza delusioni d'amore. Grazie. Grazie.